Confermato i 5 milioni di euro che abbiamo stanziato con la Giunta per gli interventi di sommorgenza che soprattutto verranno spesi da queste parti, così come che già domani avremo la raccolta da tutte le province, come avevamo chiesto in tempi celerissimi, dei danni che sono stati censiti comune per comune, perché chiederemo immediatamente lo stato di emergenza al governo in maniera tale che si possa accedere a fondi che serviranno per il ripristino di tutti i danni che ci sono stati per la parte pubblica. Faremo richiesta anche per quanto sia possibile avere accesso per danni ai privati e in ogni caso abbiamo detto agli amministratori locali, così come a coloro che qui operano e sono stati danneggiati, che la Regione sarà al loro fianco perché abbiamo bisogno di mandare anche il messaggio che qui non ci ferma nessuno per come è fatta la gente di questa terra che si riparte e si riparterà immediatamente anche perché è alle porte una stagione turistica che ci aspettiamo sia col segno più ovviamente anche rispetto agli altri anni. C'è l'occasione dell'Expo dove saremo domani con l'assessore Corsini a presentare un po' di progetti che l'Emilia Romagna proporrà alla Fiera Universale a Milano che si terrà da maggio in poi per sei mesi e che è una formidabile occasione per promuovere i nostri prodotti al mondo ma anche per fare una grande promozione turistica per l'Emilia Romagna. Sappiamo quanto sia importante la costa, la Romagna per il settore del turismo e abbiamo sempre detto che il settore del turismo per noi sarà nei prossimi anni un settore strategico per creare occupazione e dunque nuovi posti di lavoro. Infine abbiamo confermato che ci sarà un piano quinquennale di interventi sulla prevenzione al discesso idrogeologico e all'intervento sui territori e sulla costa e saranno interventi questi per decine di milioni che finanzieremo a partire da quest'anno che dovranno essere approntati perché in futuro si affrontino le prevenzioni e mai più le emergenze.